Ciao Luca, siamo qui per gli amici di FC Inter 1908.it. Non c'è due senza tre in campionato, terza vittoria dopo quelle contro Atalanta e Chievo. Sì, abbiamo vinto anche oggi, una buona prestazione, convincente dopo la partita di mercoledì. Comunque era una piccola delusione, mi è ripreso subito la rotta giusta. Adesso speriamo di far bene, di continuare a far bene. Si è sentito un po' di stanchezza magari nel secondo tempo da parte della squadra? Il ritmo è calato rispetto al primo? Eh beh sì, sono i reduci di mercoledì, comunque è stata una partita pesante, con il campo pesante poi in dieci. Oggi eravamo in stanche di secondo tempo, però l'importante è aver portato a casa questi tre punti che sono importanti. Partito dalla panchina, invece poi ti sei sacrificato, hai entrato nel secondo tempo al venticinquesimo, hai giocato in una posizione non proprio tua diciamo. Eh va bene, io per la squadra faccio questo e altro e va bene così, va bene così anche se mi devo sacrificare un po', va bene. E differenze rispetto alla squadra dell'anno scorso invece che hai potuto notare? Visto che avete vinto tutte e tu sei stato partecipe di quella squadra? Eh no dai, noi siamo, l'anno scorso era una squadra magari un po' più fisica, invece quest'anno abbiamo più qualità, soltanto mettere nei meccanismi quello che dice l'allenatore e poi faremo sicuramente bene. Speriamo di fare come l'anno scorso. Quindi c'è la possibilità secondo te di ripetere la doppietta? Sì, sì, io credo di sì, io credo di sì. Comunque, buona gara anche quest'oggi e grazie per essere stato con noi, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi.